Alice Crazy è iniziata una nuova avventura, link in descrizione La Regone Expert! Oh! Non crea... Ah! L'ho vista! La Relegate! La Re... La Relegate! Tutte le skin di Fortnite! Ci sono tutte! Ok, fermi tutti, fermi tutti, state per vedere un qualcosa che non avete mai visto Infatti, grazie ad un ragazzo, sono riuscito ad avere un account amministratore Sapete chi significa? Significa che sono riuscito ad avere tutte le 1833 skin di Fortnite I millimigliaia di balli, migliaia di deltaplani Tutte le skin di Fortnite Ma prima di riuscire vi ricordo con 10 c-med nel negozio GT perché prenderò 20 di voi E darò il metodo su come avere un account del genere Quindi taggatemi su Instagram crazy-med e mi raccomando ragazzi Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella E lasciate un like ozzo, inviatemi quindi questi 4 screen su Instagram E vi darò il metodo su come avere questo account! Non avete mai visto una cosa del genere, andiamo al video Buona visione! Bene, come in questo momento state vedendo Siamo sul Fortnite moddato Siamo sul Fortnite dove ho l'account amministratore Come vedete dal nome ho effettuato l'accesso come admin Ragazzi, è la prima volta che sto reagendo con voi Clicco su battaglia reale E vediamo che cosa succede Attenzione, attenzione Caricamento La regola expert Oh! Oh! 2 miliardi! 147 milioni! 483! 648 vbucks! Oh mio Dio, oh mio Dio Guardate all'alto a destra Oh mio Dio La regola expert Attenzione, attenzione Clicchiamo adesso su modifica Non ci credo! Tutte le modalità della season 1 Tutte le modalità della season 1 La prima season di Fortnite Oh mio Dio A che cosa A che cosa sto riaccendo, regà? Voglio 20.000 like ora Voglio 20.000 like ora Oh mio Dio Singolo Coppia, squadre E quello della prima season Attenzione Andiamo su carriera Carriera mi sembra abbastanza normale Ok, carriera non c'è nulla di che E attenzione Le più importanti a quello che sto sono Armadietto e negozi oggetti Armadietto e negozi oggetti Armadietto e negozi oggetti Clicco adesso su negozi oggetti 3 2 1 Rullo di tambori Connessione a server non riuscita Ehm Fail Bene, ho dovuto cambiare account Perché praticamente era crashato tutto E non mi funzionava più Quindi adesso mi chiamo Mad Non chiedetemi il perché E ho 100.000 V-Bucks Come se fossero pochi Siamo pronti per cliccare il negozi oggetti Attenzione Stavolta è il vero counter 3 2 1 Vediamo cosa c'è raga Ho paura di vedere Attenzione Cavaliere nero in possesso Rego Oh Milita d'assalto raga Questa è rarissima Oh mio Dio La rego No raga Lo shop della season 1 Lo shop Lo shop della season 1 Lo shop della season 1 Lo shop della season 1 raga Voglio capire Oh mio Dio Non credo ai miei occhi Non credo Ah L'ho vista La renegade La re La renegade La renegade La renegade La renegade La renegade rider La renegade rider La renegade rider Calmi tutti Calmi tutti Calmi tutti Perché Ho tutto La re No vabbè raga Questo è il vero shop della season 1 Questo No raga No raga Attenzione ci siamo Attenzione ci siamo Stiamo per andare a vedere Non ho più voce Non ho più voce Stiamo per andare a vedere l'armadietto Prima però voglio cliccare su pass battaglia E vedere se c'è il pass battaglia Ragazzi il pass battaglia c'è tutto Oh mio dio Che account raga Oh mio dio Oh mio dio raga Oh mio dio Tutto 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 funziona No vabbè fighissimo Veramente fighissimo Ok Ok ci siamo Ci siamo chat Ci siamo Siamo pronti Per andare A cliccare L'armadietto Editor Mettimi un countdown Ok ragazzi 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 Let's go Non c'è niente Ah no Ah no 730 509 4 Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Iniziamo con un qualcosa di veramente Semplice Le mimetiche No vabbè No vabbè No vabbè Ragazzi ci sono tutte le mimetiche di Fortnite Tutte 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 Cavolo Tutte No ragazzi 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 io scusate Non credo ai miei occhi Ragazzi io non credo ai miei occhi Ragazzi Non credo ai miei occhi Venite su Instagram Cresci Scrivermi Hashtag Dimmi come si fa ad avere l'account E io ve lo do Ragazzi Scrive su Instagram E mi segue Fa tutte quelle cose Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio Ok ci siamo Abbiamo visto le mimetiche Vediamo le canzoni Vabbè Tutte Tutte le canzoni Ragazzi Tutte le canzoni Tutte le canzoni Vabbè Io ho messo canzoni Zero A volume zero Quindi non le sentirete Ok Qua cosa c'è Eh vabbè Gli standardi Ovviamente Ovviamente Tutti gli standardi No 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 Non mi puoi dire Gli standardi Della season 1 No vabbè Questo me lo ricordo Non è della season 1 Ma me lo ricordo Ragazzi Wow Regà Questo me lo ricordo Wow No vabbè Tutti gli standardi Io Io non ci posso credere Io 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 non ci credo Ragazzi Allora attenzione Adesso passiamo ai balli Adesso passiamo ai balli Quelli di Travis Scott Ovviamente No Io voglio sapere una cosa No Regà Tutti i balli Tutti i balli Non ci credo Regà Non ci credo Non ci credo Regà Ci sono tutti i balli È assurdo Ci sarà anche tipo loser Che però Attualmente non lo trovo Quindi No vabbè Comunque è assurdo Regà Tutti i balli Di Fortnite E ce li ho in un account Quanto può valere Un account del genere Milioni Milioni di euro Può valere No regà Io Io veramente Ma di che parliamo Ma di che parliamo Quello del No vabbè Sono troppo casato Troppo casato Sono cavalcaponi Regà No Vabbè Ragazzi C'è davvero tutto Che vi devo dire Direi di passare avanti E andare alle scie Vediamo le scie Ovviamente Ci sono tutte Regà Ci sono tutte le scie Vabbè Vabbè Regà Ma che scia Io non le ho mai viste Ma dov'è Ma dove E vi dirò di più In questo account Ci sono alcune scie Balli Skin Che ancora devono uscire Regà Quindi io Io non li riconosco Perché vabbè Oh è impossibile Però è proprio così Andiamo Signore e signori Ai picconi No regà No No vabbè regà No vabbè regà Tutto Tutto E vediamo se c'è quello là Vediamo se c'è proprio Quel piccone Io lo riconosco Vediamo se lo vedo Vediamo se lo vedo regà Lo sapete di che sto parlando Il piccone che vale più di tutti Il piccone che fa valere Un account Più di 500 euro Il piccone dei picconi Non ci credo che non c'è Ci deve essere Ci deve essere Eccolo Il piccone La vendetta dell'incursore Il piccone Della Renegade Rider C'è anche regà C'è anche regà C'è anche Fammelo sentire il suono di questo piccone No regà 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 Tutto C'è tutto Tutti i picconi Ancora quelli che devono uscire Quelli che ci saranno tra un anno Ma non No vabbè Ma è impossibile Vedarli tutti Staremo qua anni e anni Staremo qua anni e anni Scrivetemi su Instagram Così ve lo faccio provare Regà È assurdo Attenzione Signori e signori Passiamo ai backpack E poi All'ultima cosa I backpack Ci sono tutti No vabbè No vabbè No regà Io ve lo faccio vedere veloce Perché non ha senso Guarda No Ma Ma dove è sto backpack A dove No regà Signori e signori Grazie a Maria per essere giambolata intanto Regà A noi non ce ne frega niente Ci siamo Ci siamo Alla cosa Siamo arrivati Alla parte del video Che tutti vogliamo Signori Siete pronti Voglio il 3 Le skin Attenzione 3 2 1 Oh Orrò di namori Boom Oh mio dio Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Oh mio dio Tutte Le skin Di Fortnite Ci sono tutte Ci sono tutte Regà Ci sono tutte Non ha senso farvele vedere Guardate Batman Madò Madò Regà Madò Regà Regà No No vabbè No vabbè Regà Tutte le skin Tutte le 1883 Quante sono Non lo so Però La cosa più bella Che noi vogliamo vedere Qual è E proprio No vabbè Quelle della season 1 Tutte qua Tutte qua Eccola qua La renegade rider Regà La renegade rider Io non ci sto credendo Regà E c'è tutto C'è tutto La recon expert L'esper No Questo non lo so Se è uscito Ma la recon expert Regà La recon expert No 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 Regà Io sto sognando Io sto sognando Ma voglio vedere Se c'è una cosa Che tutti noi conosciamo Signori 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 La sto cercando Eccolo qua Modifica stile Lo sculviola Lo sculviola Lo sculviola Lo sculviola Lo sculviola Regà E se c'è lo sculviola C'è anche lei Attenzione La gul trooper Modifica stile La gul rosa La gul rosa La gul rosa Queste sono skin Che ancora mi sa Devono uscire Non lo so Regà In mezzo ci sono skin Che ancora devono uscire Regà Io vi voglio fare un sondaggio Adesso Secondo voi Qual è la skin Che più assomiglia a me Ovvero al vostro Crazy nazionale Regà Fatemelo sapere nei commenti Ragazzi Io direi che per oggi È tutto Abbiamo visto un account Che non sta Neggiando me in terra Fatemi sapere Se vi piacerebbe Sapere come avere Un account del genere Anche se È un account sviluppatore Quindi non è proprio All'interno del gioco Ma vabbè Ci sono un sacco di cose da sapere Signori io vi invito a lasciare Un like ozzo Un'iscrizione E attivare la campanina Noi ci vediamo Direttamente domani ore 12 Sul canale Crazy Alice Ci vediamo in live Questa sera Ore 19 E vi aspetto su Instagram Per parlare Insieme Crazy Trattino Basso Mad Che dire Grazie a tutti Dal matto è tutto Yeah boys E mamma mia Che mattagine E direi anche troppo In questo video